Come dicono i corretti e i soldi, noi non possiamo stavolgere il grande economico finanziario non sapendo di meno la vita di un'attività sul bilancio. Visto che ci sono anche paesi negativi del genere, noi dividiamo e dividiamo questo vendamento, però non c'è tempo per ringraziare il Presidente della Commissione che ha lavorato a questo vendamento, perché questo vendamento non è che viene ripirato e non denutile sulla nostra federazione, ma noi dopo faremo delle tradizioni a bilancio, in quale molte delle cose di questo vendamento verranno accettate.